Oggi siamo qui a Comunanza dove ci sono arrivate alcune richieste da parte di giovani cantanti promettenti, volete sostenere i giovani, Comunanza è un paese messo tra molti sibillini e un presepe che a Natale diventa paese Andiamo a vedere! Il primo concorrente, DJ Sneaky, detto Mattintibona Allora, che devo fare? Allora, ciccolì, ciccolò, questo è il bello del nonno Andiamo qui, il prossimo concorrente, DJ Dole Polco Un concorrente inaspettato, DJ Angelo Vai, che canna! Che canna una canzone? Dai.. Che cazzo canzone? Eh, una canzone! Una veloce... Che cazzo canna? Ah, non sa che c'è Direttamente alla Konad, l'ultimo concorrente DJ Migno DJ Maria Lamocia con un pezzo ogni 90 dance ci canterà Santa madre di voi fate Che le piacche del Signore Siano imprese nel mio cuore Si appena il tuo Signore è con te Tra tutte le donne tu sei la Benedetta Madre dell'amore sarai il mio Signore Santa Maria, Mare di Dio Prega per noi, noi peccatori Santa Maria, Mare di Dio Prega per noi, noi peccatori Ora nell'ora della morte nostra Santa Maria, Mare di Dio